Un importante intervento in tema di prevenzione è stato organizzato dalla Fondazione Carifano con la collaborazione dell'Ordine dei Medici. Dottor Battistini, di che cosa si tratta? Si tratta di uno screening oculistico rivolto ai bambini nati nel 2018 e 2019. Perché questa età? Perché capita sempre più frequentemente a noi specialisti di vedere bambini di età superiore per i quali ormai le nostre strategie mediche falliscono, nel senso che la cura dell'ambliopia, cioè del famoso occhio pigro, avviene proprio nei bambini in tenera età. E quindi per questo ci siamo rivolti a questa categoria di bambini, proprio perché è possibile fare una prevenzione importante. Come viene attuato questo screening? Abbiamo contattato il Comune di Fano, che a sua volta ha investito del problema alle scuole, sia comunali che statali. Siamo stati in varie scuole di Fano, anche le maestre sono state molto importanti per noi perché ci hanno supportato. Siamo tre oculisti, è una prevenzione molto importante, sia per il problema delle liste di attesa esagerate, che praticamente la struttura pubblica stenta a funzionare, sia per il fatto che i genitori, impegnati nei loro lavori, e difficilmente portano i loro figli a fare visite oculistiche, quasi sempre purtroppo dai privati, dico io perché bisogna denunciare anche questa situazione anomala, perché la prevenzione dovrebbe essere pubblica, non dovrebbe essere a carico dei privati. La sensibilità della Fondazione va anche nella direzione di questi bambini che grazie allo screening oculistico nelle scuole materne della nostra città, ma il discorso è allargato anche ad altri istituti che hanno già ricevuto una comunicazione della Fondazione per dare la loro adesione, tutti quei bambini che non hanno mai avuto la possibilità per varie ragioni di fare uno screening da punto di vista oculistico vengono visitati appunto da questi professionisti. Devo dire che in questa prima fase, perché ne seguiranno delle altre, sono stati processati 153 bambini e di questi 153 bambini su 14 sono state riscontrate delle patologie che in parte devono essere controllate periodicamente e in parte occorre invece intervenire e si proseguirà quindi nell'analisi di quelle che sono le iniziative per le quali occorrerà agire tempestivamente per evitare guai in futuro e complicazioni.